Riprende a gran voce con una nutrita partecipazione la protesta organizzata dal Comitato in Seno al Problema e dai Comitati Civici di Campobasso e Agnone. Le problematiche portate all'attenzione dei media della Regione e del Comune dell'Asrem restano le stesse, tagli alla sanità pubblica con conseguenti disagi per la collettività. Non riesco a capire perché tutti i reparti vengono sbembrati, perché c'è tutto questo accanimento verso l'ospedale di Serna per favorire la sanità privata. Ma non è giusto la roba del genere, adesso ho sentito che anche l'ongologia verrà tolta e verrà sbembrata, ma noi, cioè chi ha bisogno di essere curato, dove va, chi non ha nessuno, come fa? Chiediamo innanzitutto rispetto, il massimo rispetto per questa comunità verso la quale la Regione si sta comportando da matrigna, sotto tutti gli aspetti. Per quanto riguarda l'ospedale chiediamo che venga ripristinato tutto il vecchio e non devono toccare nient'altro di quello che esiste oggi. Nessuno ci ha dato mai un tavolo collettivo a partire dal prefetto al quale l'abbiamo chiesto e lo richiederemo, perché ognuno di loro scarica le responsabilità, cioè incontrandoli singolarmente dicono che il problema sorge dall'altro. Il neosindaco di Agnone il giorno dopo l'elezione ha chiesto un incontro con tutti, il nostro sindaco ha detto no, io il tavolo non ve lo chiedo, allora evidentemente un distingo ci sarà, siamo veramente arrabbiati. Si annunciano dunque altre battaglie a sostegno degli ospedali molisani, tra cui una grande manifestazione per il pomeriggio del 15 ottobre. Presente alla mobilitazione anche Enrica Sciullo, neoeletta al Consiglio Comunale di Agnone, da sempre a sostegno della sanità dell'Alto Molise. Bisogna rivendicare il nostro diritto alla salute. È una cosa importante e fondamentale, la sentono tutti, in particolare le fasce più debole. Mi riferisco agli anziani e noi abbiamo anche un'altra fascia da tutelare, che è fondamentale, i bambini che vivono sul nostro territorio, perché le criticità che ci sono riguardano soprattutto le fasce più deboli.